Ciao ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati con un secondo video di giornata. Oggi volevo fare un po' di chiacchiere anche su alcuni argomenti di cui non parliamo molto spesso ma che stanno diventando caldi, come quelli legati al futuro della Juventus, perché è vero che in questo momento la Juve sta vivendo una situazione incerta, in cui non capisce bene quale sarà il suo destino, ma qualcosa deve muoversi. E commentare anche alcune voci su quello che potrebbe essere successo effettivamente a Pogba, perché stanno circolando appunto delle dichiarazioni di Massimo Brambati, che è un procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, che ieri sera a 7 Gold avrebbe detto testuali parole, leggo, mi sono fatto alcuni appunti. Secondo alcune mie fonti, Pogba non ha mai subito un secondo infortunio, anche se in realtà Pogba effettivamente non ha mai subito un secondo infortunio se parla semplicemente di ricadute legate al primo. Questa è una puntualizzazione che volevo fare. La Juventus ha insabbiato il suo infortunio psicologico dovuto alla paura di farsi male. Ecco perché Allegra ha confessato di non sapere nulla sul suo ritorno. Quindi secondo queste dichiarazioni di Brambati, di questo procuratore sportivo, Paul Pogba in questo momento starebbe molto bene in realtà col ginocchio, mentre nella sua testa andrebbe a giocarsi una vera e propria partita su un altro campo, che è difficile da vincere perché ovviamente dentro di noi andiamo ad affrontare le nostre battaglie più pesanti. E' una sorta di cosa che avevamo già vissuto, non so se ricordate, se ricorderete, durante prima del mondiale, poco prima del mondiale, quando si parava della pubalgia di Vlaovic e si diceva, anzi Allegri stesso aveva detto Vlaovic non se la sente. E anche lì c'erano state alcune polemiche da parte dei sostenitori bianconeri che andavano a dire, ma come non se la sente? Un giocatore che viene pagato, un giocatore che è clinicamente sano, un giocatore che è già stato fuori, adesso non se la sente di giocare. E ragazzi, fa parte di ogni calciatore, fa parte di ogni uomo, purtroppo anche se a livello clinico qualcuno risulta effettivamente guarito, non significa che il cervello segua questo ragionamento e anzi può assolutamente capitare di rimanere un po' indietro. Io vi dico, nel mio piccolo l'ho vissuto quando mi sono fatto male in finale di YouTuber League ed è stato praticamente a novembre, io sono rientrato a giocare tre settimane fa e sono stato fermo molto più rispetto al mese che mi avevano detto di stare fermo per quella che era stata la mia lesione muscolare, perché post-covid avevo iniziato ad avvertire più dolore nell'area interessata che non avvertivo in precedenza e mi sembrava sempre di avere la gamba staccata. Tutt'ora che sono tornato a giocare faccio abbastanza fatica perché comunque sento che la gamba non è ancora al 100% e queste sono percezioni mie, clinicamente sono guarito, mi riesco a muovere, riesco a giocare, riesco a correre, però continuo ad avvertire un senso di dolore, continuo ad avvertire un senso di fastidio e questo lo posso avvertire solo io. Vlaovic, se non se la sentiva, lo poteva avvertire solo lui. Pogba stesso potrebbe effettivamente vivere un momento di questo tipo, anche perché abbiamo visto Pogba giocare un amichevole poco prima del ritorno di Vlaovic. Vlaovic e Pogba erano i due interessati appunto a questo tipo di amichevole. Insieme a Quadrado per cercare di capire se potevano tornare, era stato convocato con il Monza, si è scaldato. Pogba addirittura si è scaldato con il Monza. A fine del primo tempo Allegri fa tre cambi, tra cui non Pogba, che è il primo a scaldarsi dalla panchina. Che significa che clinicamente Pogba stava bene. Pogba fa anche il torello con i compagni. Pogba a volte lavora con il gruppo. Pure Allegri tutte le volte che gli viene chiesto, ma quando rientra Pogba, anche in maniera un po' stizzita, dice non lo so, non lo posso sapere, non possiamo fare previsioni. Quindi questa voce potrebbe, per quanto mi riguarda, risultare fondata. E questo è un problema molto più profondo, che può andare anche incontro a degli altri problemi, magari, che fanno parte della vita privata di Pogba. E anche in questo caso credo che sia abbastanza inutile andare a approfondire il discorso con un semplice sì, ma quanto guadagna. Non si basa su queste cose qua. Purtroppo il cervello non ragiona su questi binari. Non è che se ho i soldi, allora sto bene e non ho problemi. Magari nella testa di Pogba si sta giocando una partita molto più difficile da vincere rispetto a una gara, a un match di calcio. e soltanto lui potrà cercare di venirne fuori. In back on track vediamo anche Federico Chiesa andare da uno psicologo poco prima di rientrare. Chiesa è determinato, è voglioso, dice non vedo l'ora di tornare in gruppo. Sono convinto che anche Pogba abbia percorso questo hitter e sicuramente una persona, come uno psicologo, potrà sicuramente aiutarlo a trarre il meglio da questa situazione, se ovviamente questa indiscrezione dovesse essere confermata. Quindi un grosso in bocca al lupo a Paul Pogba, che è un giocatore che fino adesso ci ha mancato e tanto. E spero che possa tornare il prima possibile. E se davvero questa ricaduta non è effettivamente una ricaduta, ma è qualcosa legato al suo stato psico-fisico, un bocca al lupo ancora più grande, perché sono le partite davvero più brutte e complicate in assoluto. E poi voglio fare un passo avanti, perché parlavo prima di costruzione della Juventus del futuro. Oggi c'è la voce di Frederic Massara alla Juventus. Tra l'altro Massara, da quanto si dice, è amico di Allegri. Massara in questo momento è un ex calciatore italiano, dirigente sportivo, direttore sportivo del Milan, entrato in carica proprio con Maldini il 21 giugno del 2019 al Milan. Un passato sotto l'ala protettiva di Sabatini, passato tra Palermo e Roma, è poi arrivato al Milan e ha contribuito a costruire la squadra che ha poi vinto lo Scudetto dopo 11 anni di astinenza. Perché questo fa il direttore sportivo. Il direttore sportivo sceglie il mercato, decide il mercato, va a visionare alcuni giocatori e va ad acquistarli. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto Marotta come direttore generale e Paratici come direttore sportivo per tanti anni. Quindi Marotta stava molto più attento ai conti, Paratici stava più attento invece ai giocatori. Quando invece Marotta, Agnelli e Marotta hanno deciso di separarsi, quando Marotta è uscito di scena, è stato semplicemente promosso a Paratici che andava a ricoprire tutte e due le cariche. E ci sono stati diversi momenti di confusione all'interno della Juventus, di questo abbiamo già parlato. Post Paratici è stato promosso internamente Federico Cherubini che attualmente è il direttore sportivo della Juventus anche se è inibito, non è squalificato ma è inibito, non è indagato ma è inibito. Quindi la Juventus dovrà decidere che cosa fare l'altro direttore sportivo proprio perché Cherubini potrebbe essere impossibilitato a lavorare. In questo momento l'area tecnica è stata presa in mano da Francesco Calvo che però non è un direttore sportivo, non è probabilmente l'uomo che andrà a creare la Juve del domani. E Romeo Agresti è un po' che ce lo dice, no? La Juventus dovrà andare su un profilo di questo tipo, dovrà cercare di andare su un uomo di campo. Poi cerchiamo di fare anche altri due o tre nomi in alternativa, però cerchiamo di ripercorrere un po' la strada di Massara. Dicevamo, arriva al Milan il 21 giugno del 2019, tra l'altro arriva con Giampaolo che è il mister del Milan, ha firmato il contratto due giorni prima, il 19 giugno del 2019. L'era Giampaolo al Milan non inizia particolarmente bene, anzi, dopo qualche mese viene esonerato perché il Milan non andava bene e al suo posto viene scelto Pioli. E anche in questo caso Massara sicuramente avrà detto la sua insieme a Maldini, perché il direttore sportivo si occupa di creare la squadra e ovviamente serve anche un allenatore che abbia delle caratteristiche affine alla squadra che si va a costruire. È stato scelto Pioli, probabilmente anche qui Massara ci ha messo lo zampino. La prima campagna acquisti di Massara al Milan vede Duarte, d'accordo, niente di che, ma anche nomi come Teo, Krunic, Kessi, Benasser, Leao e Rebic. A gennaio Kier, Saleme Kers e Ibrahimovic. Insomma, abbiamo fatto una piccola ricostruzione, anche solo mentale, di quella che è stata la prima campagna acquisti di Massara, uno scudetto che parte da lontano, parte dalla campagna acquisti 19-20, quindi sicuramente uno scudetto costruito dalle mani di Massara. È uno scudetto cullato, è uno scudetto cresciuto, significa che il Milan da quel punto di vista, con Massara e Maldini, ha iniziato la costruzione di una rosa di un certo tipo. La seconda campagna acquisti, Tataruzanu, Diogo Dalò, Brahim Diaz, Tonali, Auge, Kalulu e a gennaio anche Tomori e Mario Mandzukic. Non so se ricordate questa breve parentesi di Mandzukic al Milan, ma ha fatto un'apparizione con i colori rossoneri Mario Mandzukic. Quindi anche la seconda campagna acquisti vede dei giocatori che sono stati protagonisti anche l'anno scorso. Con la terza, Magnan, Ballotore, Florenzi, Baccaio con il ritorno, Messias, Giroud e Pellegri. E questa è la campagna acquisti che poi va effettivamente a vincere lo scudetto, no? Quindi tre campagne acquisti di un certo tipo, con alcuni nomi sconosciuti, alcuni nomi in rampa di lancio, alcuni giocatori esperti, alcuni giocatori che sono stati acquistati a un buon prezzo, alcuni giocatori come Tonali, sul quale si è investito e si è creduto anche durante una prima stagione, magari non all'altezza, comunque uno scudetto costruito nella campagna acquisti di tre anni, che sia stata in estiva, che sia stata invernale. Quindi sicuramente Massara è un uomo, un dirigente che sa dove andare a mettere le mani, anche prendendo in mano una situazione non eccezionale. Il Milan, tra l'altro, ha costruito questa squadra senza spendere chissà che cose. Il Milan è sempre riuscito a far quadrare risultati e conti da questo punto di vista, da quando Maldini e Massara hanno appunto ripreso in mano la squadra. E poi c'è stata l'ultima, la quarta campagna acquisti, quella di questa estate, che secondo me fino adesso è la più deludente, dove sono arrivati Sergino d'Este, Malik Chou, penso che si pronunci così, ho ascoltato la pronuncia 5-6 volte, spero di averla beccata, Adli, De Ketelare, anche qua io su De Ketelare torno a dire, che secondo me farà ricredere in tanti, magari non un fenomeno, ma secondo me De Ketelare non è un giocatore scarso, può essere un buon giocatore, Vranx e Origi. Allora, c'è da dire che Maldini e Massara avevano questo discorso legato anche ai contratti, per tanto tempo, durante l'estate, si è discusso di questa cosa, e hanno firmato il contratto in extremis al 30 giugno, quando c'era poi la scadenza. Quindi poteva esserci anche un certo tipo di ragionamento legato alle priorità degli uomini, prima dei dirigenti, e il mercato potrebbe anche essere stato sbagliato per questo motivo. Secondo me, oggettivamente, ad oggi il mercato del Milan è stato insufficiente, per quello che è stato l'addio di alcuni calciatori, e per quello che poi è stato anche cercare di sostituire alcuni nomi pesanti, magari come quello di Cassi, il fatto sta che il Milan rimane una squadra che ha vinto uno scudetto, campione d'Italia in carica, che può assolutamente vantare i conti a posto, può vantare diversi prospetti e può ricostruire, può addirittura andare a battere il Tottenham, a confermare il gol di vantaggio degli ottavi e a prodare ai quarti di Champions, che sicuramente è un obiettivo molto importante, ricordando tutto quello che è stato il percorso del Milan da quando Massara e Maldini l'hanno preso in mano. Quindi sicuramente credo che il Milan abbia lavorato bene, e per lavorare bene si passa dal lavoro dei dirigenti. Perché Massara potrebbe lasciare il Milan? Perché non si sa nemmeno se rimarrà Maldini, ci sono alcune indiscrezioni che vorrebbero questi due dirigenti fuori per creare una nuova dirigenza lato Milan. Se Maldini dovesse effettivamente lasciare il Milan, allora anche Massara potrebbe salutare. È difficile in questo momento, però Massara è uno dei nomi magari finiti sul taccuino della Juventus, perché si deve muovere in questa direzione. C'erano stati altri nomi. Uno su tutti era quello di Giovanni Sartori, che ora è al Bologna, ex Atalanta, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta ora al Bologna. Invece oggi l'Atalanta c'è Tony D'Amico, che veniva dall'Ellas Verona. Però penso che ormai non sia più un nome spendibile, anche se l'Atalanta ha costretto delle grandi fortune, sulla compravendita dei giocatori, magari proprio scelti da Giovanni Sartori. E invece c'è un altro nome molto importante, oltre a quello di Massara, che in questo momento è un po' più tiepido. Quello di Massara oggi sembra più caldo. Un nome tiepido può essere quello di Cristiano Giuntoli, del Napoli. C'è un dettaglio, va in scadenza al 30 giugno 2024, quindi significa che non manca più così tanto. Il Napoli potrebbe tanto cercare di rinnovarlo sicuramente, oppure Giuntoli potrebbe cercare di svincolarsi. È ovvio che immaginarsi Giuntoli, che se ne va un anno prima da Napoli, per andare alla Juve, non credo che il Napoli possa agevolare questo passaggio. La Juve ha bisogno oggi di un DS, perché la squadra va costruita in qualche modo. Allenatore scelto, confermato Allegri sì, confermato Allegri no. Giocatori di un certo tipo, rinnovi, riscatti, ricerche, soprattutto in un momento del genere, in cui la Juventus non può più fare i colpi che facevano a volta. Ha bisogno di un talent scout di un certo tipo, ha bisogno sì di investire sulla next gen, quindi sull'Under 23, ma anche andare sul mercato a prendere giocatori già pronti per la prima squadra. E Giuntoli, penso che abbia fatto un vero e proprio capolavoro con l'ultima campagna acquista del Napoli. Basta solo citare Kimo Kwaraskeia, che sono arrivati a prezzi assolutamente onesti, sono diventati giocatori determinanti dopo gli addi di Koulibaly e di Insigne. Nessuno si aspettava di vedere un Napoli già così performante. Io addirittura a inizio anno mi immaginavo un Napoli fuori dalle prime quattro posizioni, mi immaginavo un Napoli fuori dalle prime quattro posizioni proprio perché erano andati via giocatori come Insigne, Mertens, Koulibaly che avevano fatto la storia ed erano arrivati giocatori come Raspadori, Kwaraskeia, Kim e tanti altri che erano sì, giovani molto interessanti e non mi immaginavo potessero dare già così tanto. Quindi sicuramente alla Juventus un uomo di campo, un uomo in grado di costruire la squadra oggi è una priorità perché questa è la priorità della Juventus, tornare a vincere se riescono a farlo quelli che riescono a costruire squadre importanti, quelli che hanno anche meno soldi, con pochi soldi, la Juventus comunque potrebbe riuscire a costruire una squadra senza sborsare chissà che cosa ma con qualche soldino in più. Però per fare questo c'è bisogno assolutamente di un uomo competente, di un uomo di campo come potrebbe essere benissimo Massara, come potrebbe benissimo essere Giuntoli, come personalmente ritengo possa essere anche lo stesso Federico Cherubini perché io per quel poco che ho visto di Cherubini secondo me Cherubini si è mosso bene alla Juventus. Poi non so se è veramente un direttore sportivo, probabilmente gli manca anche un po' di esperienza ma quello che ha fatto Cherubini alla Juventus con il progetto Next Gen secondo me è di altissimo livello e mi piacerebbe vederlo lavorare ancora una volta per cercare di portare o di migliorare l'esperienza di questi giocatori che arrivano a approcciarsi alla Juventus anche se non direttamente in Serie A e questa seconda squadra questo carrozzone come l'aveva chiamato arriva bene probabilmente non capendo esattamente quello che è effettivamente il progetto Next Gen penso che oggi sia il nostro bacino io dico quasi la nostra scommessa per il futuro quindi queste sono un po' le due notizie che volevo commentare insieme a voi una che parte dalla testa di Paul Pogba un giocatore importante che sicuramente fino ad adesso ci è mancato e uno invece che riguarda il campo e la costruzione della Juve del futuro la Juve che verrà e devo dire la verità dopo anni in cui abbiamo sempre comprato il giocatore già fatto il giocatore già pronto il giocatore da Champions con un attore come Allegri che era bravo a esaltare le caratteristiche dei giocatori già arrivati oggi vedere una Juventus che ha giocatori come Vlaovic Ken Fagioli Miretti e tanti altri che potrebbero venire su come Suley Hilling Junior o Barrenecea dell'Under 23 o giocatori sulla falsa riga Devaric Varaskei Hakim giocatori che possono arrivare come è stato Leao e diventare punti di riferimento per una squadra che vince lo Scudetto giocatori come Tonali che erano promesse e ora sono diventati veri e propri punti di riferimento beh mi gasa mi gasa perché semplicemente oggi non c'è più modo di fare altrimenti se questo poi andrà a coincidere con la Juventus che avrà bisogno di un paio d'anni far respirare questi uomini questi dirigenti che hanno già dimostrato di riuscire a fare qualcosa di interessante di importante anche partendo da squadre che erano messe peggio rispetto alla Juventus di oggi penso che il tifoso della Juve oggi debba accettarlo perché comunque abbiamo fatto gli ultimi 18 mesi in cui abbiamo investito abbiamo cercato di fare qualcosa non c'è stato niente di che e almeno iniziare un progetto nel vero senso della parola fatto in un certo modo di un certo tipo con un certo dirigente sportivo che va a fare il mercato proprio in prospettiva per far sì che la Juventus possa anche diventare una squadra che vada ad autosostenersi autofinanziarsi penso proprio che sia necessario proprio perché il calcio oggi in Italia è praticamente quasi morto per come lo intendiamo l'unica speranza delle squadre di Serie A appunto è investire su profili che potrebbero esplodere da un momento all'altro cederli alle squadre più importanti e ai campionati più importanti tradotto Premier League e ricominciare questo procedimento fino al momento in cui poi anche le casse dei club italiani potranno andare ad acquistare da campionati diversi anche giocatori magari più importanti o con più mercato ormai questo è penso che l'abbiamo capito tutti no?